Nel giorno di Faragosto non ha la sera un esperimento nuovo da questo punto di vista? Sì, un esperimento nuovo perché sono due le novità. Una di giorno perché penso che sia, diciamoci così, più visibile. La seconda è che abbiamo appunto fatta con i gogliardi di Diano Marina appunto per dare, diciamoci così, un po' più di movimento a questo. L'abbiamo fatto di proposito questo movimento insieme con i gogliardi di Diano Marina perché appunto nei 90 anni dalla città d'Imperia vogliamo dare un po' un brio. Ecco Marco Modestà, una manifestazione appunto briosa, oltre alla sfida classica, chiara, con i lanceri. Esatto, abbiamo mantenuto la sfida della tradizione e insieme l'abbiamo contornato di questi giochi scherzi che rievocano un po' le battaglie anche tra Porto e Oneglia, ai 90 anni, questo filone che ha accompagnato tutte le nostre feste di quest'anno. I 90 anni dalla nostra città anche il Palio del Mare ha questo filone conduttore sui 90 anni quindi ci saranno anche un po' di storia come si vedrà, quindi cose serie e divertenti. Ed ecco i gogliardi, chi li rappresenta? Iari Alassio con la sequela dei gogliardi dianesi. Iari, allora la manifestazione con una visione più spumeggiante quest'anno, un po' diversa dal solito, sempre all'insegna dell'allegria perché i gogliardi questo propongono. Io sono veramente contento perché come vedi a fianco a Sergio Lanteri sono veramente soddisfatto di dire che quest'anno con il Comitato San Giovanni e Tradizioni Unigliesi facciamo questa nuova cosa che chi lo sa ce lo siamo anche detti, magari potrebbe essere anche un inizio di qualcosa di importante. Grazie. 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 Grazie.